Siamo a Milano e ci ancingiamo a visitare la mostra dei treni d'epoca organizzata dalla Fondazione Ferrovie dello Stato nel decennale della sua fondazione. In questo luogo si trovava l'officina che si occupava della manutenzione e riparazione del materiale rotante ed oggi è un museo della storia delle ferrovie italiane. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Guarda l'occhio. Vediamo se va. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.